Il metodo di Ermit per l'integrazione delle fusioni razionali, cioè che è l'ossatura del calcolo degli integrali, integrali delle funzioni razionali, che cos'è una funzione razionale? Una funzione razionale è una funzione del tipo p di x su q di x, dove p e q sono polinomi. Allora, se il p è un polinomio lo sappiamo integrare. Come integrazione sto parlando dell'integrazione indefinita, cioè della ricerca di un abimitivo. Quindi se p di x è un polinomio sappiamo cosa fare. Adesso come funziona? La prima cosa è che possiamo supporre che il grado di p sia minore del grado di q. Per quale motivo? Altrimenti faccio la divisione di infini. Faccio p di x uguale a, chiamiamolo, u di x per r di x, voglio chiamare questo s, non mi piace, più r di x, anzi chiamo questo s, perché chiamo questo s, perché così chiamo qui il cosiente, no? Quando fate la divisione di ruffini la vedete, dividendo uguale divisore per cosiente più questo, e fino a qua poco male. Allora, quando vado a fare p di x fratto s di x, questo è uguale a s di x più r di x fratto s di x. Quindi, quando andiamo a fare l'integrale di x, questa è l'integrale di questo, più l'integrale di questo. Allora, questo lo sappiamo fare perché è un polinomio. E qui dobbiamo, c'è rimasto per calcolare quest'integrale di questo integrale di r di x su s di x. Ma qual è la regola, diciamo, della divisione di ruffini? Perché il resto deve avere un grado inferiore al divisore. Se questo c'è grado 7, questo c'è grado 7. chiaro? Perché fino a che, altrimenti, sennò la divisione di ruffini con t. Quindi possiamo sempre supporre, da questo ragionamento ne consegue, possiamo sempre supporre, facciamo un esempio. esempio. Se io voglio fare l'integrale di x alla quarta fratto 1 più x quadro in dx, questo come lo posso scrivere? Allora, io so che 1 più x quadro per 1 meno x quadro è uguale, per meno 1 più x quadro è uguale a x alla quarta meno 1. Quindi posso riscrivere che x alla quarta è uguale a x quadro più 1 per x quadro meno 1 più 1. Allora, vedete, questo è il dividendo. questo è il quoziente, questo è p di x, questo è s di x, questo è q di x e questo è il resto. Poi, è capitato che il resto sia di grado 0, però poteva anche essere di grado 1, perché il divisore era di grado 2. Quindi cosa posso scrivere? Posso scrivere che questo integrale è uguale all'integrale di, quando vado a dividere per x quadro più 1, viene x quadro meno 1 in dx più l'integrale di 1 fratto x quadro più 1. Divido per x quadro più 1, allora qua viene x alla quarta fratto x quadro più 1 che è quello di sinistra, qua rimane x quadro meno 1 perché x quadro più 1 che è quello di sinistra, qua viene 1 fratto x quadro più 1. Quindi, lo riscrivo qua, l'integrale di x alla quarta fratto 1 più x quadro in dx, quanto fa? Fa x cubo un po' terza, l'integrale di meno 1 fa meno x, l'integrale di 1 fratto 1 più x quadro, sappiamo che è un integrale immediato verso l'angelo e poi dobbiamo aggiungerlo. Ok? Se non siete convinti, fate la derivata di questo, fatevi conti e vedete che viene. È chiaro fino a qui? Quindi, questo deve essere il primo passaggio fondamentale, quando il numeratore ha un grado inferiore al denominatore si fa la divisione, rimane un polinomio che si integra facilmente più rimane un'altra funzione razionale, però dove il numeratore ha un grado inferiore al denominatore. Ok? Quindi possiamo superare questo. Adesso. possiamo anche supporre, senza letere la generalità, possiamo supporre s di x monico, sarebbe a dire s di x, poniamo che il grado di s di x sia n, allora questo qua invece di iniziare con x alla n, più a con 1 x alla n meno 1, più a con 2 x alla n meno 1, più a con n meno 1, più a con n meno 1, x più a con n. Quindi, monico significa che il primo coefficiente vale 1, per quale motivo? perché se io devo fare l'integrale di 1 fratto 3x più 5, per esempio, di x, questo non è monico, perché invece di iniziare con x inizia con 3x. e che si fa? Si mette in evidenza la costante e questo rimane diventa monico. Si mette in evidenza la costante pari a da con 0 e quindi mettendo in evidenza, se qua c'è la con 0 si mette in evidenza e questo diventava monico e questo diventava con 1 sulla con 0 e con 2 sulla con 0. e quindi, per esempio, questo integrale abbiamo già fatto. Quanto fa? Fa un terzo logaritmo del valore assoluto di x più 5 terzi. Dove si può applicare questa primitiva? Su tutti gli intervalli che ci pare, che però non devono contenere... cosa non devono contenere? chi non devono contenere? ehi, sveglia cosa non devono contenere? posso applicarla sull'intervallo meno 3,3? perché passa per? 0 no per 5 terzi cioè non vuoi applicarla in intervalli che siano a cavallo che contengono degli z del denominatore è chiaro? qualunque funzione razionale appena contiene diciamo se l'intervallo contiene uno z del denominatore non potete applicarlo quindi potete applicarlo tra 1 e 7 potete applicarlo tra 5 e 12 tra meno 10 e meno 3 ma non tra meno 3 e 0 è chiaro? ok allora adesso vi insegno come si calcola l'integrale cioè come si trova una primitiva di una qualunque funzione razionale ci sarà un però però sarà che dovrebbe diciamo lo possiamo sempre fare a patto di conoscere la fattorizzazione del denominatore se conosci la fattorizzazione del denominatore lo puoi fare se no devi prima trovare la fattorizzazione del denominatore e poi lo fare è chiaro? allora cominciamo con su che cosa ordiniamo questi nostri integrali? li ordiniamo sul grado del denominatore quindi cominciamo a fare quelli che hanno il denominatore di grado 1 ok? allora quelli che hanno il denominatore di grado 1 quindi il primo caso il grado di s uguale 1 quali sono? sono esattamente quello che abbiamo appena fatto cioè l'integrale di a fratto x più b vi ricordate che è monico? posso supporlo monico come prima no? se la a fratto bx più c mette venenza la b e la c diventa la c ma chi è questo integrale? questo integrale è banalmente a il logaritmo del grosso di x più b una costante a fratto ovviamente esempio se voglio fare l'integrale di 5 fratto 2x più 3 quindi x tra 1 e 2 come si fa? si fa 5 lo porto fuori 2 lo porto fuori l'integrale tra 1 e 2 è di 1 fratto x più 3 mezzi quindi x questo viene 5 mezzi del logaritmo di x più 3 mezzi valutato tra 1 e 2 qua non ce l'ho messo in vero assoluto perchè non serve perchè siamo sui cosi quindi qua mi viene 5 mezzi qua mi viene logaritmo di 7 mezzi meno logaritmo di 5 mezzi quindi viene 5 mezzi logaritmo di 7 qui si è fatto bene la differenza è logaritmo e logaritmo è logaritmo chiaro? quindi questi integrali qui sono immediati li abbiamo già fatti adesso andiamo a fare quelli in cui il denominatore ha grado 2 ok? fatemi cancellare infatti che è che che è che andiamo a fare il caso nel quale il grado di S fa 2 allora qui abbiamo una situazione di questo genere supponiamo che il problema qua è scegliere le lettere supponiamo che il mio polinomio abbiamo il primo caso sotto caso 1 chiamiamolo allora S di X è uguale a X meno X con 1 per X meno X con 2 cioè il nostro dove X con 1 e X con 2 sono numeri reali ok? allora il mio integrale come si scriverà? cioè sarebbe il caso nel quale le radici del polinomio sono entrambi reali le prendiamo distinti supponiamo che siano diverse quindi che succede? che qui abbiamo l'integrale di AX più B fratto X meno X con 1 per X meno X con 2 quindi X allora io dico che AX più B fratto X meno X con 1 per X meno X con 2 si può sempre scrivere come A grande fratto X meno X con 1 più B grande fratto X meno X con 2 dove A grande e B grande sono due costanti che verranno ricavate da piccolo e B piccolo ma no, non sono proporzionali da piccolo e B piccolo adesso vediamo come si chiama allora come si fa questa somma? come si fa la somma di due frazioni? si fa un multiplo del denominatore per esempio X meno X con 1 per X meno X con 2 poi qua viene A per X meno X con 2 più B per X meno X con 1 A grande e B grande ma questo viene sempre con lo stesso denominatore viene A grande più B grande X più anzi meno A grande X con 2 meno B grande X con 2 ok? quindi abbiamo questo sistema grazie al principio di identità dei polinomi cosa dice il principio di identità dei polinomi? allora queste due frazioni devono essere uguali lo vedete i denominatori sono uguali i numeratori pure devono essere uguali ma il numeratore qua è un polinomi nella X di grado 1 qui pure allora quando è che due polinomi sono uguali? quando i coefficienti dei monomi sono ordinatamente uguali quindi qua bisogna avere che A piccolo deve essere uguale ad A grande più B grande e B piccolo deve essere uguale a meno A X con 2 meno A X con 2 più B con 1 o se prevede A grande X con 2 più B grande X con 1 deve fare meno B questo sistema ha sempre un'unica coppia di soluzioni A grande e B grande noi che cosa cerchiamo? A piccolo B piccolo X con 1 X con 1 noi li conosciamo cerchiamo A grande e B grande si possono sempre trovare? certo perchè per esempio per trovare A grande cosa devo fare? allora ricavo B da qua quindi B uguale A piccolo meno A grande poi sostituisco sotto e ottengo B uguale meno A grande X con 1 X con 2 scusate più B grande che è uguale a da piccolo meno A grande per X con 1 quindi cosa ottengo? ottengo che meno il meno lo porto all'altra parte ottengo A grande che moltiplica X con 2 meno X con 1 è uguale A meno B più A piccolo X con 1 allora l'unica cosa importante l'unica cosa importante da osservare è che quando adesso devo ricavare A grande l'unica cosa che mi serve è che questo sia diverso da 0 ma questo è diverso da 0? sì perchè X con 1 è diverso da X con 1 quindi effettivamente A grande lo ricavo se volete ricavare B grande dovete fare il porto cioè dovete ricavare A grande da sopra, sostituire sotto e poi nell'equazione sotto vi ricavate B grande ok? quindi non vi preoccupate che questi sistemi tutti i sistemi che verranno i sistemi lineari noi li faremo in analisi due ma in ogni caso tutti i sistemi che verranno dai calcoli che bisogna fare per integrare le funzioni relazionali sono sistemi che sono automaticamente hanno un'unica, dipende quante soluzioni diciamo quante variabili ci sono se ci sono due variabili l'unica non più di soluzione se ci sono tre variabili l'unica termine di soluzione così qui la soluzione sarà sempre unica chiaro? ok allora nel momento che questo è uguale all'integrale di A grande fratto X-1 in dx quindi l'importante è semplicemente fare scomporre questa frazione in questa somma perché nel momento in cui abbiamo scomposto questa frazione in questa somma e nel momento in cui applichiamo la linearità dell'integrale cioè l'integrale della somma e la somma degli integrali chi sarà l'integrale? l'integrale sarà A grande per logaritmo del valore assoluto di X-1 più B grande per logaritmo del valore assoluto di X-2 più la solita costante arbitraria è chiaro? adesso facciamo un paio di esempi ok ok facciamo un esempio naturalmente questa primitiva dove la potete applicare in quale intervallo? in tutti gli intervalli che non devono contenere né X-1 né X-2 appena un intervallo conviene uno dei due zero del denominatore è un guaio non si può fare allora andiamo dunque a fare qualche esempio l'integrale di 3X più 2 fratto X quadro più 5X più 6 quindi X allora cosa devo scrivere? x quadro più 5X più 6 uguale 0 vi vado a trovare le radici x uguale meno 5 meno più la radice di 25 meno 24 che fa 1 fratto 2 quindi le radici sono meno 5 meno 1 fratto 2 sono meno 3 e l'altra è meno 2 e l'altra è meno 2 infatti questo qua si può fattorizzare a volte si può fare anche più velocemente a occhio sovrapposto del poliname armonico questo non è altro che X più 3 per X più 1 3 per 2 fa 6 e 3 più 2 fa 5 quindi 3X più 2 fratto X quadro più 5X più 6 come lo posso scrivere? lo posso scrivere come A fratto X più 2 più B fratto X più 3 allora qual'è? quando faccio la somma qua mi viene X più 2 per X più 3 che fa il numero di prima qua viene A per X più 3 più B per X più 1 allora qual'è il sistema da andare a risolvere? A più B deve fare 3 che vedete AX più BX deve fare 3X poi 3A più 2B deve fare 1 perché 3A più 2B deve fare 2 scusate deve fare 2 allora se voglio eliminare la B faccio questo meno il doppio di questo e mi rimane A uguale questo meno il doppio di questo viene meno 1 e B fa... allora scusate A questo meno il doppio di questo non fa meno 1 ma fa meno 4 e B fa 7 vediamo un po' 7 meno 4 fa 3 14 meno 12 fa 2 quindi se io devo andare a fare l'integrale di 3X più 2 fra X4 più 5X più 6 in DX questo altro non è che meno 4 per l'integrale di 1 fratto X più 2 in DX più 7 per l'integrale di 1 fratto X più 3 in DX uguale uguale meno 4 per il logaritmo del valore assoluto di X più 2 più 7 per il logaritmo del valore assoluto di X più 3 più una soglia costante per il controllo fate la derivata e fate la somma e vedete che viene qua è chiaro? non c'è nessun problema bisogna fattorizzare il denominatore bisogna fattorizzare la fattorizzazione se qua ci fosse stato 2X quadro più 10X più 12 mettere via Z2 e portare il 2 fuori e allora riducere l'ammonico chiaro? non c'è nessun tipo di problema andiamo a fare il sotto caso 2 e quindi Grazie a tutti. Allora, sotto caso 2, nel sottocaso 2, dove s di x, che è sempre monico, è uguale a x meno x1 a quadrato, cioè stiamo supponendo dove x1 è sempre un numero reale, cioè stiamo supponendo in questo caso che il polinomio di grado 2 abbia sempre due radici, ma che questa volta siano coincidenti. Quindi, stavolta supponiamo di avere l'integrale di ax più b fratto x meno x1 quadro, quindi x. Facciamo questo caso e poi ci fermiamo un minuto. Allora, come funziona? Bene, qua scriviamo così, ax più b fratto x meno x1 al quadrato, lo posso scrivere come a che moltiplica x meno x1 più a x1 più b fratto x meno x1 a quadrato. Cioè, cosa ho fatto? Ho aggiunto e sottratto a piccolo x1 in maniera tale da avere qui un qualcosa moltiplicato per x meno x1. Quindi, in questa prima frazione posso semplificare x meno x1 e mi rimane così, poi ho più ax1 più b fratto x meno x1 al quadrato. Se fate la somma vedete facilmente che è la somma di questo. Ok, quindi l'integrale che è lineare ti farà a volte per l'integrale di 1 fratto x meno x1 in dx più ax1 più b volte l'integrale di 1 fratto x meno x1 al quadrato in dx. E quanto fa? Il primo integrale è un integrale che abbiamo già fatto. fa a piccolo per il logaritmo del valore assoluto di x meno x1 il secondo integrale a parte della costante fuori ax1 più b fa meno 1 fratto x meno x1 e poi c'è la costante al quadrato. Lasciate perdere la costante fate la derivata di 1 fratto x meno x1 quanto fa questo x meno x1 alla meno 1 la derivata di questo qui fa x meno x1 alla meno 2 per il meno 1 che era l'esponente di partenza quindi il meno cancella questo e quindi la derivata di meno 1 fratto x meno x1 fa 1 fratto x meno x1 quindi otteniamo banalmente questo è un caso facile perché semplicemente facendo questo piccolo artificio ci siamo ricondotti a due integrali noti immediati senza neanche dover fare il sistema facciamo un esempio concreto se io devo fare l'integrale di 3x più 1 fratto x quadro più 2x più 1 questo chi è? questo è l'integrale di 3x meno 3 fratto x più 1 allora 3x più 3 scusate fratto x più 1 al quadrato meno l'integrale di 2 fratto x più 1 vedete qua ho aggiunto 3 e poi devo sottrarre 3 ce l'aveva 1, 1 meno 3 che fa meno 2 quindi questo chi è? il primo integrale 3 per x più 1 x più 1 x più 1 si semplifica viene 3 per il logaritmo di x più 1 in valore assoluto più 2 volte fratto x più 1 più la costante al quadrato che è la derivata di 2 volte fratto x più 1 se lo fa meno 2 fratto x più 1 ok? quindi il tutto è molto semplice va bene il sottocasso 3 è un po' più lungo lo facciamo dopo la pausa